si chiama lo scoglio dei gabbiani e non per sbaglio gabbiani e colmorani ma non giro il colmorano pesca quando esce poi queste belle giornate di soli si mettono a asciugarsi le ali che peraltro non è che assorbono umido perché in pratica sono oleate per modo di dire insomma in parole sono anti magnatura ecco in breve stop guardate la meraviglia di questi riflessi argentati sul mare che spettacolo che spetta guardate la meraviglia di colleta Sì Guardate la mareggiata che Trucchi ha buttato sulla spiaggia. Questa è la serena dell'Ibeccio, è chiaro. Che l'inverno è finito lo dicono molte cose. Abbiamo visto la mimosa, abbiamo le margherite fiorite. Il clima è tiepido, addirittura ci sono già barche in mare a pescare. Questa è la zona a fronte mare, i famosi giardini qui a Antignano. Guardate che sdraiata di margherite. Questo bianco in mezzo al verde, dell'erba, è uno spettacolo. Guardate. C'era un merlo in terra, non mi ha dato il tempo di riprenderlo. Margherite Viola Con questa immagine del nostro bel mare di Antignano vi saluto. Arrivederci, amici.